3 a 0 del Monza sul Parma, Pagliari apre le marcature per i Brianzoli dopo 35 minuti, molto bello il suo gol. Al quinto minuto del secondo tempo Lorini raddoppia per i Brianzoli al termine uno scambio con Bocca Fresca. E al diciottesimo sempre del secondo tempo è ancora Bocca Fresca a segnare il gol del 3 a 0.